Passiamo alla politica capitolina, il Campidoglio continua a lavorare al patto per Roma assicurando che la crisi di governo non avrà ripercussioni sugli interventi per la città. L'administrazione capitolina, la crisi di governo non produrrà contraccolpi, nessuno stop al patto per Roma. Gli assessorati continuano a lavorare affinché il futuro governo possa stanziare centinaia di milioni di euro con l'obiettivo di rivitalizzare la capitale. Penso che le strutture amministrative vadano comunque avanti indipendentemente da quella che dovrebbe essere un'azione politica. Quindi gli uffici lavorano come dovrebbe succedere. Quindi chiaramente noi siamo pronti, stiamo lavorando, aspettiamo di avere il punto di contatto per poter presentare una bella proposta per la città.